Dopo due pareggi arriva la prima vittoria della stagione per la Virtus. Forse nella partita meno brillante sotto il profilo delle occasioni, la squadra di Baroni ne ha create molte di più a Brescia e al Biondi contro la Regina, ma il calcio, si sa, non è scienza esatta. E allora i rossoneri si prendono i tre punti, utilissimi per la classifica. Match winner della gara Diego Falcinelli, un gol distinto e di precisione. Si è alzata una palla, non lo so, ero girato e fortunatamente ce l'avevo sul sinistro, ho calciato distinto e ne ho visto la palla. Tiro molto preciso, non particolarmente forte ma angolatissimo. Sì, ho cercato di incrociarla, tenerla bassa, di incrociarla e fortunatamente è entrata. Sui spalti del Manuzzi poco più di 10.000 spettatori, oltre 200 i sostenitori arrivati da Lanciano. Virtus senza Gatto, impegnato con l'Under 21, al suo posto ha giocato Turchi e poi le sorprese. Baroni ha gettato nella mischia dal primo minuto al centrocampo uno dei nuovi arrivati, Federico Casarini, e in difesa dal primo minuto anche il centrale tra l'est al posto di Aquilanti. Padrone di casa senza l'ex Almici infortunato e il nazionale sloveno Krainj. In panchina Succi, il castigatore rossonero che nei precedenti dello scorso anno ha segnato ben quattro gol. Dopo una ventina di minuti di studio e una ripartenza del Lanciano che avrebbe potuto far male, già con Falcinelli anticipato di un soffio da Consolini, il primo vero tiro in porta al 32esimo è proprio rosonero con Falcinelli bloccato da Campagnolo. Due minuti dopo girata di piccolo da ottima posizione alta. Al 39esimo Cesena pericoloso con De Frel che penetra in area, bravo Sepe a deviare. L'azione continua, Cascione colpisce di testa ma non inquadra la porta. La ripresa si apre con un tiro di De Frel alzato da Sepe. All'ottavo però Falcinelli gele il Manuzzi. Il giocatore controlla dal limite e lascia partire un tiro molto angolato su cui Campagnolo non può proprio arrivare. È festa grande per i tifosi rossoneri. Bisoli prova la carta Succi ma è ancora il Lanciano ad arrivare al tiro con questo colpo di testa di piccolo servito da Turchi. Entra anche Plasmati. L'arbitro Baracani di Firenze che aveva già allontanato dalla panchina il direttore tecnico d'Aversa allontana anche Baroni. Poco dopo l'occasione più ghiotta per il Romagnoli di pareggiare. De Frel si trova tu per tu con Sepe, il giocatore finta il tiro, bravissimo il portiere a non abboccare e a tuffarsi al momento della conclusione. L'ultima occasione capita sulla testa di Garritano appena entrato. E così dopo ben nove minuti di recupero l'arbitro certifica il successo della Virtus. Sulla gara sentiamo Baroni e un Bisoli molto amareggiato. La squadra ha fatto quello che gli ho chiesto, nel senso c'era un grande stadio, un grande pubblico, una grande squadra da affrontare. Siamo venuti qui senza paura, con umiltà, con rispetto all'avversario, però con grande coraggio, cercando di portare il calcio nostro, il calcio di idee. Onestamente oggi i ragazzi hanno meritato. In queste altre due gare, anche domenica, sabato scorso, c'era sfuggito la vittoria per poco. Credo che questo risultato dia merito a questi ragazzi che stanno lavorando molto bene, con grande impegno, con grande dedizione e con la voglia di migliorarsi. Noi oggi non dovevamo pareggiare, dovevamo perdere. L'ha scritto, è tutta la settimana che sento che se ne è fortunato, che vince solo per fortuna. Evidentemente adesso avremo pareggiato i conti, perché oggi mi sembra tre volte avanti al portiere con Del Frele, una con Garetano all'ultimo secondo, botta sicura. Questo è il calcio. Io sono contento della mia prestazione dei miei ragazzi, rispetto se qualcuno vuole male al Cesena, è quello che sta facendo adesso, che è da addosso ai miei giocatori, che non giochiamo bene. Però io non mi faccio condizionare, faccio gruppo con la mia società, con i miei giocatori, vado avanti per la mia strada e noi abbiamo detto, c'è un obiettivo, si riscordano qualche d'uno che a maggio ne erano in eccellenza. Grazie. 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 Grazie.